Pochissimi dei suoi devoti sudditi avevano la risposta pronta, anche se uno traldò la Bibbia. Da lì le goffe pause che la regina riempieva con una frase del tipo «Io sto leggendo» e a volte addirittura frugando nella borsetta e mostrando di sfuggito il fortunato volume. Non c'era da stupirsi se le udienze si facevano man mano più lunghe e stentate e un crescente numero di sudditi affezionati se ne andava a correre a male con di non aver fatto una degna figura e l'impressione che la sovrana gli avesse giocato un brutto tiro. Piers, Trislam, Jais e Espef, tutti i fedeli servitori della regina appena staccavano dal turno, si confrontavano. «Cosa sta leggendo? Ma che razza di domanda è?» «La maggior parte di questi poveretti non sta leggendo niente e se lo dicono lei pesca fuori dalla borsetta un volume che ha appena finito e glielo regala. E loro lo vendono subito su ebay». «Proprio così? E di recente non le è capitato di starle a seguito in una vista reale?» si intromise una dama di compagnia. «Perché ormai si è sparsa la voce. Mentre una volta la gente arrivava con un mazzolino di primole spampanate e che poi se me sta passava a noi nelle trovie, adesso si portano i libri che stanno leggendo o addirittura scrivendo. E se hai la fortuna di essere di servizio, praticamente ti serve un carrello. Se avessi voglia di scarruzzare il libro in giro mi sarei trovato un lavoro da Hatchard. Sua me sta sta diventando proprio ingestibile». Gli attendenti si adattavano anche a questo e per quanto poco entusiasti di variare il loro tantram, alla luce delle predilezioni della regina, si rassegnarono a cambiare tattica. Negli incontri preparatori con i sudditi, ora ventilavano che sua me sta, oltre a indagare sulle distanze percorse e i mezzi di trasporto usati, avrebbe potuto chiedere loro cosa stavano leggendo. La maggior parte dei convenuti sbarrava gli occhi e gli attendenti snocciolavano una lista di suggerimenti. Poi alla leggina si faceva un'idea spropositata della proprietà di Andy McNabb o Joanna Trollup. Ma pazienza, almeno nessuno si era trovato in difficoltà e le audienze finivano spaccando il minuto come un tempo. I rali intoppi accadevano quando uno dei sudditi confessava di aver un debole per Virginia Woolf o per Dickens, perché in entrambi i casi iniziava un'accesano che prolissa conversazione. Molti auspicavano un analogo cambio di idee menzionando Harry Potter, ma in quel caso la regina, che non aveva tempo per quel genere letterario, subito le replicava, sì, aspettando il momento giusto per leggerlo. E se lo volava in fretta. Dato il loro rapporto quasi quotidiano, Sir Kevin poteva pungolare la regina rispetto a quello che ormai è diventata quasi un'ossessione. Mi chiedevo, maestà, se non potremmo trovare il modo di ottimizzare le sue letture. Una volta, sentendo un'espressione simile, la regina avrebbe fatto finta di niente, ma uno degli effetti della lettura era stato proprio quello di diminuire la sua, già bassa, tolleranza per certe espressioni gergali. Ottimizzare? In che senso? È un'ipotesi che sto giusto testando, maestà. Ma sarebbe forse il caso di rilasciare un comunicato stampa in cui si dice che vostra amestà, a parte la letteratura inglese, sta anche leggendo i classici etnici. A quali si riferisce in particolare, Sir Kevin? Al Kama Sutra? Sir Kevin sospirò. Adesso sto leggendo Wickram Seth. Potrebbe andare? Il segretario non l'aveva mai sentito nominare, ma pensò che suonava bene. Sermon Rushdie? Meglio di nome, sta. Non vedo proprio la necessità di un comunicato stampa, perché al pubblico dovrebbe interessare che cosa sto leggendo. La regina legge. Tanto basta. Mi immagino già la reazione generale. E allora? Leggere vuol dire sottrarsi, rendersi irreperibili. Se l'è già diverso, disse Sir Kevin, se come passatempo fosse meno egoistico. Egoistico? Forse dovrei dire solipsistico. E allora lo dica. Al Kessel Kevin si lanciò. Se potessimo veicolare le sue letture per uno scopo più ampio, acculturare il paese, ad esempio, per promuovere la lettura fra i giovani. Noi leggiamo per nostro piacere, disse l'algina. Non è un dovere pubblico. Forse dovrebbe esserlo, ripetesse il Kevin. Gran faccia tosta, fu il commento del duca quella sera, quando la regina gli riferì l'accaduto. A proposito del duca, che ne era dei familiari in tutto questo? In che misura la lettura della regina si ripercutevano su di loro? Se il suo maestà avesse dovuto cucinare e fare la spesa o sfiorando l'inaudito passare l'aspirapolvere, sui suoi numerosi provimenti si sarebbe notato subito una certa sciatteria. Ma naturalmente a lei non toccava niente di tutto questo. È vero che studiava i documenti ufficiali con minor ridizione, ma il marito e i figli non ne risentivano in alcun modo. Ne risentiva invece la sfera pubblica, dove questo impattava negativamente stando a Kevin. Era evidente che il suo maestà aveva cominciato ad adempere malvolentieri ai suoi doveri. Posava le prime pietre con meno slancio e si doveva avvarare una nave. La mandava a scorrere giù per lo scalo senza tante cerimonie, come una barchetta su uno stagno e intanto pensava al libro che l'aspettava. Se questo poteva preoccupare lo staff, i familiari in realtà tiravano un bel sospiro di sollievo. La legina aveva sempre preteso il massimo da loro e invecchiando non era certo diventata più indulgente. La lettura però l'aveva cambiata. Adesso li lasciava in pace e li vestava raramente e loro se la passavano molto meglio. Vive i libri, pensavano, tranne quando la nonna pretendeva che leggessero o voleva parlarne a tutti i costi. Allora li interrogava o nel peggiore dei casi, ficcava loro in mano un volume e poi controllava che se lo avessero letto. Ormai non si stupivano più di vedere la nonna in qualche angolino tranquillo delle sue dimore, con gli occhiali sul naso, quaderno e matita accanto a sé. Alzava gli occhi in un attimo e faceva un vago cenno con la mano. Contenta tu, diceva Luca percorrendo a grandi passi il corridoio. Ed era vero, lei era contentissima. Si guardava la lettura come nient'altro al mondo e devorava libri e a velocità sbalorditiva. Non che ci fosse qualcuno da sbalordire, a parte Norman. Del resto la regina non parlava con nessuno dei libri che leggeva, ben sapendo che un entusiasmo così saldivo per quanto lodevole potesse esporla a ridicolo. Se le fosse venuta la fissa di Dio o delle daglie, riflettè, sarebbe stata la stessa cosa. Alla sua età pensava la gente perché scaldarsi tanto? Ma per lei non c'era niente di più serio e nutriva per la lettura gli stessi sentimenti che certi hanno per la scrittura. Era impossibile rinunciarvi e per lei in quella fase della vita era come una missione. E' vero che all'inizio leggeva con tripidazione e un certo nervosismo. Si perdeva di fronte all'infinita quantità di libri e non aveva idea di cosa procedere. Leggeva senza metodo, un libro portava un altro e spesso ne iniziava due o tre contemporaneamente. Gli appunti erano venuti dopo. Leggeva sempre con una matita portata di mano, non per riassumere quello che leggeva ma solo per trascrivere i passaggi che l'avevano colpita. fu solo dopo un anno di letture e di appunti che il suo amistesse azzaldò ad annotare un pensiero tutto suo. La letteratura, scrisse, mi appare come un vasto paese dai confini remoti verso i quali mi sono diretta ma che non mi sarà mai dato raggiungere. Io ho cominciato troppo tardi, non potrò mai recuperare. Poi, un pensiero a parte, l'etichetta sarà una cosa scomora ma l'imbarazzo è peggio. leggere le metteva anche a tistezza. Per la prima volta in vita sua divennero dei rimpianti. Aveva finito una delle tante biografie di Silvia Pratt e in realtà era contenta di aver avuto una vita meno travagliata ma leggendo l'autobiografia di Lauren Bacal non potrei fare a meno di pensare che la Bacal si era divertita di più e con sua sorpresa si trovò a invidiarla. Qualche settimana dopo la regina alzò gli occhi dal libro che stava leggendo e disse a Norman si ricorda quando gli ho detto che lei è il mio factotum? Bene Ho scoperto cosa sono io una tardo discente con il dizionario sempre alla mano Norman lesse ad alta voce tardo discente chi impara solo in età avanzata era quella necessità di dover recuperare il tempo perduto a far leggere con tale rapidità e ultimamente a commentare sempre più spesso e con meno incertezza cominciò quindi ad affrontare quella che a tutti gli effetti era critica letteraria con la stessa schiettezza che destinava ad altri settori della sua vita la regina non era una letterice a Climente e spesso avrebbe voluto verceli lì gli autori per poterli rampognare sono l'unica scrisse a voler dare una bella lavata di capo a Harry James capisco l'ammirazione per il troll Johnson ma non ha scritto anche una quantità di pompose stupiraggine un giorno all'ora del tè stava leggendo Harry James quando sbottò e muoviti la cameriera che stava portando via il carrello del tè chiedo scusa maestà e nel giro di due secondi era già schizzata fuori dalla stanza ma no non tu Alice le gridò dietro la regina rincorrendo sulla porta non tu una volta su maestà non si sarebbe preoccupata di quello che pensava la cameriera o di aver ferito i suoi sentimenti adesso però gli dispiaceva e tornando a sedersi si chiese come mai al momento non la sfiorò l'idea che quello slancio potesse avere un nesso con il libro e perfino con il ritardissimo Harry James a tempo debito però se ne corse e in uno dei suoi appunti successivi scrisse è possibile che io mi stia trasformando in un essere umano non sono convinta che si tratti di un cambiamento auspicabile e talvolta pensò bene di aggiungere la data oltre al senso di non potersi mai mettere in pari aveva anche altri rimpianti se si fosse appassionato alla lettura vent'anni prima avrebbe potuto conoscere tanti autori famosi che invece non aveva incontrato o peggio ancora che aveva incontrato senza sapere cosa dirgli almeno questo però poteva porre il rimedio e così anche sul consiglio di Norman recise che sarebbe stato interessante e magari divertente invitare un po' gli scrittori che avevano letto entrambi a palazzo si diede dunque un ricevimento o una sua re come insisteva a dire Norman gli attendenti ovviamente pensavano di dover seguire la procedura delle feste in giardino e degli altri ricevimenti in grande preparando gli ospiti con cui probabilmente se me sta si sarebbe fermata a parlare la regina però ritenne che un'occasione del genere non richiedesse tante formalità dopo tutto erano artisti e decise di lasciar fare il caso ma non si rivelò una buona idea di novità di novità di novità Grazie.